Incidente mortale la scorsa notte sull'autostrada A30 Caserta Salerno, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto un'auto e un camion, nei pressi dello svincolo di Cassel San Giorgio. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni di solofra, che era a bordo di un'automobile con due amici rimasti feriti e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del sesto tronco di Cassino di Autostrada per l'Italia. Gli automobilisti in viaggio verso Salerno la scorsa notte sono stati costretti a raggiungere il capoluogo attraverso la viabilità ordinaria dopo l'uscita obbligatoria a Cassel San Giorgio e si sono registrate lunghe code. I due amici del giovane deceduto, che erano a bordo dell'auto che si è scontrata con il camion, non sarebbero in gravi condizioni di salute.